Traffico paralizzato dalle 4 di questa mattina alle porte di Gela sulle strade statali per Catania e per Licata a causa dei blocchi organizzati dai sindacati confederali, dai lavoratori dell'indotto dello stabilimento dell'Eni che protestano contro la chiusura della raffineria e contro la sua mancata riconversione in Green Raffinery. Fermi da oltre due anni ed esauriti tutti gli ammortizzatori, i lavoratori delle imprese appaltatrici rischiano il licenziamento perché non sono stati mai aperti i cantieri concordati con il protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014 che avrebbero dovuto realizzare opere per 2,2 miliardi di euro in Sicilia. Tutte le varie promesse, tutte le varie cose, ora sono finiti pure tutti gli ammortizzatori sociali perciò da giorni aspettiamo notizie, da due mesi già che gli stipendi sono ridotti perché tutto il personale nostro della Sud Eletto è stato posto in ferie obbligatorie ma l'azienda non sta pagando nemmeno le ferie, detraendo tutto il credito delle ferie dalla tredicesima e delle giornate fatte. Ad oggi in poche parole i giorni fatti nostri di lavoro, se facciamo una settimana e viene retribuito una settimana tutto il resto che manca alla copertura sia degli ammortizzatori sia delle ferie non viene retribuito perciò abbiamo buste paga, cioè dovremmo avere buste paga perché ancora non abbiamo preso nemmeno lo stipendio del mese scorso di 400, di 500 euro e niente, in virtù che Eni non dà risposta, in virtù che l'azienda non sta pagando si è deciso con le forze sindacali di avviare questi scioperi. Noi vogliamo solo lavorare, non cerchiamo nient'altro, siccome qua hanno distrutto tutto non faranno neanche sicuramente la raffineria green, quindi dove dobbiamo andare noi? Dunque chiedete una mano concreta da parte delle istituzioni? Certo, e sono proprio le istituzioni quelle che mancano, e se non si spostano loro qua non si conclude niente Renzi forse ci ha dimenticati. Ma non partiva da Gela proprio la vera industria, così disse Renzi, addirittura Gela era l'esempio. Sì, Gela doveva essere l'esempio, ma infatti se stanno vedendo è l'esempio di tutti i licenziamenti. Gli operai sono sull'Astrico, la situazione si è fatta realmente preoccupante, i presidi sulle strade di accesso a Gela sono monitorati dalle forze dell'ordine. Ma perché non si interviene allora per frenare quella che è venuta una vera e propria emergenza occupazionale in città? Questa domanda la dobbiamo fare ai nostri politici, che hanno dato lo strabene al signor Renzi, che sa che il problema di Gela è risolto, anzi si fanno pure la pubblicità che la raffineria è diventata green, addirittura, cosa che non è vera. Vogliono certezze, vogliono lavorare, sono i lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela che protestano contro la chiusura della raffineria e come dicevamo contro la sua mancata riconversione in green refinery. Si sentono stanchi di aspettare notizie che non arrivano in gioco e lo abbiamo detto tante volte, c'è il lavoro. La finalità principale è la dignità per le famiglie e vorrei ringraziare il signor Crocetta, onorevole Crocetta, presidente della regione, per quanto riguarda i problemi che lui ha posto, per quanto riguarda i posti di lavoro che non venivano a perdersi, un posto di lavoro nella città di Gela. Vedo come la politica è distante dai lavoratori che hanno problemi tutti i giorni per mantenere la famiglia e si parla di Gela soltanto quando ci sono fatti delinquenziali e non si parla dei lavoratori che soffrono in silenzio tutti i giorni per poter mantenere le famiglie onestamente. Qua non si occupa nessuno del nostro territorio. E lei da quanto tempo è che non lavora e come fa a mantenere la famiglia? Io sono in casa di integrazione e riesco a mantenere, astendo la mia famiglia. Ho quattro ragazzi da mantenere e sono monoreddito. Anche io ho il diritto di genitore di mantenere con dignità, non con lusso, con dignità i miei figli per poter dare loro un futuro e poterli dargli la dignità di uomini liberi, di studiare, poter mantenere il minimo indispensabile per i nostri figli. Ma non si era detto dal 6 novembre del 2014 che doveva essere avviata la riconversione a Gela e dunque ci sarebbe stata ancora una stabilità economica? Chiacchiere, solo chiacchiere abbiamo sentito, solamente quello. Lei da quanto tempo è che non lavora? Da due anni quasi. La situazione è diventata incandescente. Devo dire che era già nell'area che la protesta doveva partire. E' chiaro che, giustamente, le risposte che noi possiamo dare ai lavoratori sono che si sta muovendo. Ma se non c'è un grosso segnale anche da parte del Governo nazionale sul caso Gela, soprattutto che abbiamo lavoratori che già sono mesi che non prendono nemmeno un centesimo e di conseguenza l'esasperazione e la disperazione è arrivata ai massimi livelli, è scontato che chiaramente poi si alzerà anche il tiro a livello sindacale. Perché non è possibile che questa sia diventata una città abbandonata da tutti. Ma servono e a che cosa i blocchi stradali? Purtroppo i blocchi stradali non sono dei sit-in, perché vorrei usare i termini ben precisi. Perché come vedete, voglio dire, nessuno vuol fare danno alla cittadinanza o quantomeno. Quanto meno si cerca anche la solidarietà e far capire possibilmente che questo è un dramma che sicuramente non riguarda semplicemente i lavoratori che sono fuoriusciti dal ciclo produttivo. Ma a cascata, secondo la filiera, riguarderà un pochettino tutti. Ma così facendo però non bloccate quella piccola economia che potrebbe anche svilupparsi a Gela con dei blocchi stradali? Qui non ci sono né terroristi, qua ci sono semplicemente padri di famiglia che reclamano semplicemente di portarsi un dorso di pane a casa. Chiediamo attenzione da parte della politica regionale e nazionale, perché c'è un protocollo firmato, c'è un accordo di programma e ad oggi la politica non ha fatto nulla per attivare tutte quelle misure a salvaguarda dei salari e dell'occupazione. Noi come sindacato rivendichiamo un forte impegno della politica affinché questo avvenga, perché le famiglie sono veramente in difficoltà. I sindacati come si muovono nel senso? Noi continueremo questa lotta finché non avremo una risposta certa dalla regione, quindi non ci fermeremo a una sola giornata, ma bensì andremo ad oltranza. Ma bloccando le strade non si blocca anche la piccola economia che potrebbe dare ossigeno alle famiglie gelesi? Noi non stiamo bloccando, stiamo chiedendo solidarietà ai passanti che si fermano e solidarizzano con noi, anzi chiediamo che la popolazione sia con noi, perché noi non vogliamo che Gela muoia, noi vogliamo che Gela li nasca. Notte all'addiaccio per centinaia di operai dell'indotto dallo stabilimento Eni di Gela, continuano infatti i blocchi di accesso alle strade e continueranno anche nelle prossime ore. Si protesta contro la chiusura della raffineria e contro la sua mancata riconversione in green refinery. E questa mattina anche gli operai del diretto si sono fermati. Sittino dinanzi ai cancelli dello stabilimento si solidarizza con i colleghi dell'indotto. A Gela siamo all'anno zero, purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno e non ce la facciamo più. Sia il diretto in parte, il diretto lei mi ci garantisce, ma la cosa più drammatica è l'indotto. L'indotto vive ore drammatiche e vive ore veramente di agonia vera e propria. Non ce la fanno più, sono lavoratori come siamo lavoratori noi del diretto e hanno il diritto di lavorare. Il lavoro è importante, Gela ha dato tanto negli anni. Dopo 50 anni di industrializzazione non può essere trattata in questo modo. È stata vessata ed è stata vessata in modo lento e duraturo, quasi intelligente. Dal governo nazionale, occhio, dal governo nazionale che ha messo la firma su quell'accordo. Occhio, stiamo parlando del governo nazionale, fra l'altro, non ce la scondiamo, Renzi è venuto a Gela, ha fatto toccati fuga e se n'è andato. Si è fatto gli accordi che doveva fare e si è andato via. Doveva venire ogni tre mesi a Gela, non è venuto neanche una volta. Come mai? Renzi ti vogliamo a Gela noi, quando discutiamo tecnicamente di cose che vanno e che non vanno. Anche i nostri colleghi del diretto sono stati costretti a andare al nord, a lavorare, o all'estero, o nelle piattaforme. Insomma, come chiaramente si capisce, è un disagio che ci coinvolge, anche se non abbiamo il problema della perdita del posto di lavoro come ce l'ha l'indotto, che giustamente si trova meno le commesse per poter lavorare. È sempre comunque un grosso problema. C'è una grossa difficoltà per il territorio di Gela e per tutta Gela, perché sono fermi tutte le cose, il commercio, tutte le cose. Sono in crisi profondamente, perché i redditi sicuri vengono dall'assabellimento. Con una lettera aperta al Premier Renzi si ribadisce che questa è l'avvertenza di una intera città che non vuole morire e si chiedono risposte immediate sullo lavoro e sullo sviluppo con la firma dell'accordo di programma tra Stato, Regione, Comune e Forze Sociali che sbloccherebbe gli investimenti e la ripresa produttiva a Gela. Le proteste, Sindaco, giustamente continuano con i blocchi nelle strade di accesso alla città. Questa mattina anche un sit-in dinanzi ai concerti della raffineria, perché i lavoratori dell'indotto e del diretto rivendicano solo un aspetto, lavorare. Si sapeva, perché non si può permettere di interrompere dall'oggi al domani chiudere un'attività produttiva senza pensare allo sviluppo e alle ricadute che si hanno nel territorio. Era soltanto una questione di tempo e devo dire che anzi i gelesi sono stati molto pazienti. Io sono con i lavoratori perché il lavoro è dignità e la dignità non può essere tolta a nessuno. E' facile far finta di niente, nascondere, mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo e dire che non c'è il problema. Il problema c'è, esiste e i lavoratori non hanno il piacere di stare qua sotto il freddo. Ma al loro disagio lo devono dimostrare in qualche modo, in modo molto educato, ma lo devono dimostrare. E il governo centrale deve stare attento perché è l'unico che può risolvere questo problema, chi ha creato lui. Quando parliamo del governo, dunque parliamo dello Stato centrale, parliamo chiaro di Renzi. Renzi, il premio, è venuto a Gela il 14 di agosto dicendo che da Gela partiva una nuova economia basata sull'industria. Da quella data ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e sostanzialmente non è accaduto nulla. No, praticamente è stato più uno spot quello che è stato fatto dal premio nazionale perché i problemi ci sono, ci sono tutti e non sono stati sicuramente risolti. Ne oggi, tra le altre cose, difficilmente così come si stanno muovendo li risolveranno domani. E non è soltanto il premio Renzi che ha le più grandi responsabilità, ma tutti quanti i nostri rappresentanti nazionali che in realtà fanno finta di nulla. Io vorrei invitare i rappresentanti nazionali a posto di parlare di bega interna e di venire qua a risolvere i problemi dei lavoratori di Gela. È facile andare ad additare e mettersi sopra un piedistallo, quando invece i problemi reali sono in mezzo alle persone. Quindi invito tutti, compreso Grillo, a venire qua a Gela a vedere quali sono i problemi e guardare in faccia queste persone che hanno perso lavoro, dignità, futuro per loro e per i loro figli. Se dovesse venire Grillo a Gela per solidarizzare con i lavoratori è chiaro che porterebbe il simbolo del Movimento 5 Stelle che adesso a lei non le appartiene più. Ma io mi interessano le ideologie che ho dentro di me e nessuno può togliere. Poi chiunque venga qui per risolvere i problemi di Gela sicuramente è ben accolto e mi troverà a suo fianco. Chiunque invece vuole giocare con i lavoratori di Gela, con la vita dei cittadini geletti, in me incontrerà un nemico in qualsiasi livello, o col simbolo o senza simbolo, o 5 Stelle o qualche altra etichetta che qualcuno vuole mettere. Grillo, dovessi ascoltarci? Lei cosa direbbe? Prima di parlare vieni e vediamo di agire, perché le risposte bisogna darle. Parlare può essere forse utile, ma se non si danno delle soluzioni reali sono soltanto parole al vento. La politica non può e non deve assistere, deve agire e far sentire la propria voce. L'avvertenza Enige la fa registrare la netta presa di posizione da parte del Consiglio Comunale. I consiglieri infatti hanno deciso di stare accanto agli operai dell'indotto dello stabilimento che da tre giorni e due notti si trovano sulle strade di accesso alla città, direzione Catania e Licata, con una settina di protesta al fine di rivendicare il loro diritto al lavoro dopo la chiusura della raffineria e la sua mancata riconversione in Green Refinery, così come stabilito dall'accordo siglato a Roma il 6 novembre del 2014. Si chiedono dunque interventi immediati. La polveriera indotta è pronta ad esplodere da un momento all'altro. Lo avevamo già detto e scritto mesi addietro. Oggi è arrivato il momento veramente di scendere in campo perché non possiamo perdere l'ultimo treno che sta passando. Il Consiglio Comunale in autofinanziamento, ciò vuol dire con i soldi nostri, stiamo portando presso la zona antistante Enimed dei Gazebo per far sì che rimaniamo lì convocati in Consiglio Comunale straordinario, urgente e permanente. Rimarremo lì sino a quando non verranno rimossi i blocchi. La vertenza Gela oggi non si può abbandonare per nulla. Noi dobbiamo essere i promotori di quello che è il futuro della nostra città. Tutte le evoluzioni positive che dovevano esserci col protocollo indesa non ci sono state. Quindi oggi riteniamo che ci sia una città che rischia parecchio e che rischia il suo futuro. Dal Governo nazionale non è arrivato nulla. Tutte le cose che dovevano arrivare sono rimaste solamente sulla carta, non è arrivato assolutamente nulla. Noi ci vogliamo assumere la responsabilità oggi di guidare la città in questa durissima vertenza. Vogliamo essere da collande tra tutte le categorie e questo non può farlo che il Consiglio Comunale che rappresenta lo Stato e i cittadini. Quindi da oggi inizia un'altra storia nei rapporti che c'è con l'Eni, nei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico ma soprattutto nei rapporti con il Governo nazionale. Troppe promesse, pochi fatti. Si chiama vertenza Gela, in realtà io la chiamerei vertenza di un comprensorio che fa riferimento a Gela. Quindi è chiaro che tutte le parti devono essere invitate. Come Consiglio Comunale abbiamo pensato di poter coinvolgere intanto tutte le categorie della città, gli ordini professionali e le scuole ma anche tutto il comprensorio perché è giusto che il comprensorio possa essere presente. Devo dire che sono stati i primi loro a chiedere di essere la disponibilità appunto di intervenire. Interverranno venerdì mattina. E' una vertenza che non può esaurirsi in questi giorni, è una vertenza che durerà nel tempo e che deve durare fino a quando si risolva. C'era grande attesa per l'onorevole Bindi che però ha disertato. Non ce l'aspettavamo, io l'ho saputo dieci minuti fa perché fino a ieri era tutto concordato. Sicuramente ci saranno stati dei motivi gravi anche sicuramente questioni di sicurezza. Comunque oggi sono venuti lo stesso tutti i vertici della FAI, il nostro commissario straordinario anti-racket, Sant'Egifre che per mezzo di lui e quindi con il fondo Ponte Sicurezza abbiamo potuto ristrutturare la nostra seda e in più ampliarla con un'altra che si trova al pian terreno. E' un bel sito, un salone che useremo ora per aumentare le nostre attività, soprattutto con le scuole. Stavolta fa revenire gli studenti presso la nostra associazione che me lo chiedevano sempre. Presidente, con quale spirito riparte da questa nuova sede? Allora, con lo spirito che sarà la seconda sede nazionale, questa è una novità in assoluto, la sede, come lo sapete, è a Napoli, questa sarà la seconda sede nazionale della FAI, quindi con lo spirito che avremo qui tutti i rappresentanti della Sicilia, le associazioni anti-racket della Sicilia potranno soffrire della nostra nuova sede. Grazie al PON Sicurezza è stato possibile rilanciare l'attività dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano a Gela con una nuova sede? Sì, è importante i contributi che l'Europa destina per il riscatto del Sud, sono in questo caso positivamente utilizzati e certamente contribuiscono a infittire quella rete di solidarietà sociale, quel rafforzamento dell'associazionismo, che sono la chiave di volta per meglio contrastare il crimine e sottrarre queste realtà meridionali alla piaga della criminalità. Giornata importante, continuano le attività dell'associazione anti-racket, anti-usura Gaetano Giordano e si riparte da una nuova sede. Sì, che è una cosa importante perché è un bene confiscato, quindi ha questo valore aggiunto ed è un bene confiscato, ripristinato, ristrutturato grazie ai fondi del Ponsicurezza, quindi grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. Tutte queste cose danno ulteriore forza alla presenza già autorevole, prestigiosa, dell'associazione anti-racket su questo territorio. Dieci anni fa noi eravamo in una situazione, qui in questa vostra città, in cui era difficilissimo mettere insieme tre, quattro commercianti, dieci anni dopo abbiamo a Gela in assoluto la realtà dell'anti-racket più importante del nostro paese, con centinaia di commercianti che hanno denunciato, che si sono esposti, che collaborano, quindi un grande passo avanti, un grande salto di qualità. Stamattina è una nota positiva, l'associazione Giordano, non solo per Gela, ma posso dire per il grande significato, il grande valore, il lavoro che ha fatto, ha un significato che va oltre Gela, importante per la Sicilia e per il mondo anti-racket in generale, ha questa inaugurazione ed è un connubio tra le iniziative e la sede significativa che avrà questa associazione e anche l'attività che continua a svolgere e i risultati che ha ottenuto sul territorio di Gela, quindi è un'importante testimonianza, a cui vogliamo dare atto all'associazione Giordano, al suo presidente. Siamo qua anche con i vertici nazionali dell'anti-racket, c'è il commissario straordinario, per renderne merito di questa attività. Ne insorgono i commercianti, temono che si possa ritornare agli anni bui degli anni 80 con i racket delle estorsioni, cioè laddove perde lo Stato vince la criminalità. Ma noi ci batteremo con tutte le forze perché ciò non accada mai e non accada più. Dopo tanto lavoro, dopo tanto impegno delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni e vorrei dire della società civile che appunto a Gela ha avuto e ha un ruolo fondamentale e significativo in tal senso, non possiamo pensare di ritornare agli anni bui. Con quali sentimenti oggi lei è presente? Beh, con un sentimento di grande partecipazione intanto, con la coscienza di voler riproporre una promessa, ce la siamo scambiata dieci anni fa, quasi undici ormai, di poter essere insieme, collaborare e aiutare chi ha la difficoltà, perché ancora ci sono le difficoltà, però questa associazione è un grande successo e quindi dobbiamo rendere partecipi alla cittadinanza a questo successo, sempre. Si chiama Erasmus Plus KA2, si tratta del progetto dedicato alla mobilità studentesca in Europa presentato nell'aula informatica della scuola Ettore Romagnoli di Gela. Prima tappa degli alunni dell'Istituto Scolastico, diretto da Sandra Ciccolone, tra pochi giorni sarà la Polonia. Il progetto è altamente innovativo e di carattere scientifico. Questo per noi è un motivo di grande gioia, perché contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa e fa vedere come veramente la Romagnoli investa tantissimo sull'Europa, investa tantissimo sulla formazione globale dei suoi studenti, investa tantissimo sul fare scuola in maniera innovativa. Nel corso dell'iniziativa, gli studenti e il team docente coinvolti nel progetto hanno illustrato il lavoro svolto sulla meteorologia ed i cambiamenti climatici in Europa. Abbiamo cercato di far capire che cosa succede con i cambiamenti climatici nella nostra realtà, quindi nel nostro territorio. Noi abbiamo fatto dei laboratori pomeridiani con i ragazzi, dove abbiamo costruito una stazione meteo con dei prodotti anche semplici, perché i nostri alunni devono imparare a conoscere, quindi a misurare il vento, l'acqua, quindi le piogge e anche la temperatura, in modo da poter registrare questi dati e capire noi stessi in che cosa consiste il cambiamento climatico. Al progetto partecipano anche una scuola tedesca, una rituana, una polacca, una francese ed una portoghese. Il progetto è anche, come dire, relativo alla tecnologia informatica ed è in qualche modo collegato alla nostra idea di rendere questa scuola una scuola digitale. Abbiamo realizzato un sito che stiamo implementando, su cui andranno a confluire tutti i risultati del lavoro degli studenti. Il primo gruppo di studenti incontrerà i propri partner in Polonia dal 3 al 10 febbraio per un primo incontro di progetto che riguarda appunto la mobilità studentesca. Legalità e sicurezza proseguono a gela gli incontri tra i carabinieri e gli studenti. Oggi appuntamento nell'auditorium dell'Istituto Ettore Majorana di Piano Notaro diretto da Mirella Di Silvestre. L'incontro è stato organizzato dal docente Rosario Tornetta e rientra nel protocollo d'intesa tra l'arma dei carabinieri ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione della cultura, della legalità. Ogni anno facciamo questa manifestazione. Questo è il secondo anno che ci viene a trovare il Maggiore Mar. siamo soddisfatti per quello che lui riesce a dare ai ragazzi e per quello che riescono a percepire loro stessi. Questo incontro è importantissimo perché praticamente ci dà la possibilità a tutti i ragazzi di capire qual è il ruolo fondamentale che l'arma dei carabinieri ha nel territorio. Noi nella scuola pratichiamo sempre la legalità. Questo è il nostro goal, cioè i nostri obiettivi che giornalmente perseguiamo. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni in altre scuole del territorio. Oggi siamo qui all'Istituto Superiore Ettore Majorana per un'importante conferenza di fronte a 400 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Argomenti importanti ma soprattutto di stretta attualità che riguardano i giovani di età compresa 18, 19, 20 anni. 18 anni è un'età importante. Cerchiamo di far comprendere ai ragazzi il ruolo, i compiti dell'arma dei carabinieri nella tutela, nel controllo del territorio ma soprattutto a salvaguardia dei ragazzi perché si possono divertire, possono studiare, possono anche molti di loro lavorare in assoluta serenità ma con grande rispetto delle leggi oltre ovviamente alla consapevolezza che è importante e soprattutto rispettare i regolamenti ma rispettare la libertà dell'altro. Grazie a tutti!